Ciao bambini, come state? Che ne dite di leggere una bella storia oggi? Leggiamo Orso Buco? Orso Buco Orso si è perso e non trova più la sua tana, si mette in cammino e all'improvviso Badabum! Casca in un buco Ma è la tana di Volpe! Orso e Volpe iniziano a camminare alla ricerca della tana di Orso attraversano il bosco e all'improvviso Badabum! Spadabam! Cascano in un buco Ma è la tana di Rospo! Orso, Volpe e Rospo iniziano a camminare alla ricerca della tana di Orso attraversano il fiume e all'improvviso Badabum! Spadabam! Pidibum! Cascano in un buco Ma è la tana di Formica! Orso, Volpe, Rospo e Formica iniziano a camminare alla ricerca della tana di Orso attraversano il deserto E all'improvviso Un elefante! E vi siete persi? Presto, tutto in groppa Allora, tum, tum, tum marciano nel deserto Squap, squap, squap Guardano il fiume E ancora Zic, zic, zic Zigzagano per il bosco Ma all'improvviso La tana di Orso Tutti dentro Badabum! Spadabum! Pidibum! Tic! Finalmente a casa Orso, Volpe, Rospo e Formica fanno festa Ma l'elefante dov'è? Non posso dal buco! Ciao ciao amici Alla prossima!